Nino Castiglia, candidato sindaco per il comune di Massafra. Occupiamoci un po' di come stanno andando le cose in campagna elettorale perché è molto importante il contatto con la gente, con i cittadini. Massafra d'Alto Onda è una realtà relativamente piccola, perché è un comune abbastanza in via di sviluppo e anche numericamente non è certo un paesino. Però in quelle realtà più piccole rispetto alle metropoli c'è un contatto più diretto con i cittadini e d'altronde penso che questo debba essere il significato della politica, uno stretto rapporto con la cittadinanza per ascoltarne le esigenze, i bisogni, le difficoltà, gli obiettivi. Vedi Luigi, devo dirti una cosa, anche qui come in tutto il resto dell'Italia la sfiducia nella politica si fa sentire, Massafra non è esonerata da questo problema. Questa è colpa della politica, di noi stessi che facciamo politica ogni giorno. Quanti di noi non hanno dimostrato una certa verità dei fatti, no? In qualche modo. Ecco, la sfiducia gioca un ruolo fondamentale nel voto, perché insomma domenica prossima mi auguro un invito che faccio a tutti i cittadini è che è quello di avere fiducia nella politica, di vedere a fondo, negli occhi ogni candidato, ogni candidato sindaco che si sta presentando. Credere, io dico, innanzitutto nelle persone e nella loro storia, nel loro vissuto. Dobbiamo avere un po' di fiducia, molte cose saranno importanti, la storia personale e politica di ognuno, che cosa si è fatto in passato, che cosa si racconta oggi, qual è il programma elettorale. Abbiamo la necessità di dire alle persone di vedere il signo in fondo e cercare di capire che cosa dice realmente il candidato, che cosa pede, qual è la sua sensazione, le sue emozioni. È un aspetto importante. I cittadini sono molto attenti. Purtroppo la campagna elettorale poi si presenta sotto altre forme oramai. Poco spazio alle bandiere, all'appartenenza, ai colori, a quella che è una distinzione fra un simbolo della politica di sinistra o un simbolo della politica di destra, ci presentiamo sui palchi spesso senza considerare ormai questo aspetto. È l'appartenenza che poi gioca un ruolo fondamentale nella conduzione di un governo. Un governo di sinistra avrà idee di sinistra nel governare, un governo di destra farà altrettanto. La cosa piuttosto triste in questa campagna elettorale è che si dà poca importanza all'appartenenza e piuttosto va di moda il comizio da talk show, quello che si vuole mostrare in quel momento. Ma questa cosa delle bandiere ormai dimenticate è un elemento piuttosto triste. Grazie a tutti.